A tutti buongiorno, la giornata di oggi, mercoledì, vedrà cieli generalmente nuvolose, in particolare sulla pianura, senza precipitazioni eccetto rare gocce, maggiori schiarite sulla fascia alpina e prealpina che poi diverranno più ampie dal pomeriggio. Le temperature sopra le medie del periodo, massime previste da 19 a 22 gradi, mentre le minime da 10 a 15 grade.